Ripeto, il prossimo cambiamento che farò sarà per andare da Camilla, anche se le traccia nemmeno. E l'ultimo figlio che dirò sarà Padre Eterno. Chiola, ma è afropica? No, a te di ciò, mi va in domanda una vita. Hai a me morte e farei quello che vorrai. Ma te che scampumi, dei figli di a me famiglia, il rasca è a me famiglia. O quello che è il cu di a me famiglia. E Viola, Viola, ascolta. No, a te di ciò che andò, andando l'anità. L'altra parte non serviva i solidarci di quei secoli, che anche si fu teso. Tu le lò e il cimento, coca fu i età scioltano, e ti ti avevi a già fia cui mochi me ma dei figli. E Viola, e Violetta, e senti. Ora, papà, tieni le busse, Paoletti. Basta, parrumneci. Ah, tu lo dici, parrumneci. Ho sentito solo il finale, il non parliamo in più di cosa. Non parliamone più di vendere. Cosa ti hanno detto, lo fa apposta. Ma non può farla apposta, perché non ne sa niente. Lo suppone. Senti, che lo sappia, no. Ecco, non ha importanza, comunque. Dovrebbe vendere quelle maledette vigne e basta, capisci? E non in nervosi, e ti no, ce l'hai sempre fatta. Ebbene, ce la farai anche stavolta. Non con l'Alberti. Ma aspetta almeno di parlare con quest'Alberti. Non vi vedete lunedì. Ma pensi che non sappia che cosa vuole l'Alberti, eh? Povera cara, tua zia non vuole vendere. Ma come mai? Come mai? Perché non capisci una virgola di quello che gli si dice. Io ho l'impressione che abbia preso la Fiat per una confraternita religiosa, capisci? Ecco, comunque, non ditele niente su questo argomento. E soprattutto tu, Elena, perché, non lo so, la nervosisci, ecco. E' vero, me ne sono accorta e non capisco come mai. Eppure sono sempre stata molto gentile, molto educata. Perché l'Alberti troppo e a lei questo non piace, capisci? E cosa dovrei fare allora? Prende la sveglia. E signorina? E signorina? Ecco. E no. Non vorremmo darle troppo oro. Oh no, non si preoccupi. Non mi cadranno le ovaie per questo. E ne ne, non è Camilla, almeno nell'espressione. Mi lascia perdere la cameriera. E' giusto messa, che cosa fare? C'è poco da pensare, dovrebbe vendere quelle maledette vigne e basta. Ma non so come obbligarla, capisci che non so. Ma perché non gli dici che la figlia ti ha promesso una somma nel caso da fare da se buon fine? E che tu hai bisogno di questa somma per la vita, eccetera, eccetera. Elena, impossibile. Ma perché impossibile, infine? E perché gliene devo già, capisci? E come minimo si tratterebbe la somma come risarcimento. Ma questo non me l'avevi mai detto. E adesso lo sai, è stato un po' di tempo fa. Ho avuto delle difficoltà e sono venuta a trovarla, ecco. Delle difficoltà, i rubinetti di plastica sul po' Eh sì, che essi scioglievano con l'acqua calda. Anche dopo quando ho ristrutturato l'officina. A volte mi chiedo perché ti ho spini con questi rubinetti. Ma lo sai perché? Lo sai perché? Perché mio zia ha così diviso i beni, tutti i terreni e le vigne, a mia zia. E a me quella merda di officina, non so come disfarmene. Non vengilo, no? Ma non posso, lo sai, non posso. Se la vengo, perdo tutto. E se la tengo, devo continuare a spenderci dei soldi. Non mi fai facciare questi colpi. Ma sta a sentire, Elena. Non te li dà mica in testa questi colpi qua, eh? Mangia tra un'ova, vi va bene? Benissimo, zia. Mi piace molto cenare presto. Ci si sente più leggeri. Sentito? Cena leggera, come al solito d'altronde. Bene, signora. Nell'attesa, perché non è andata a fare una passeggiata nelle mie adorate vigne, eh? Paoletti, dimmi un po'. Ti sei curante dei tuoi divagazioni? Piola, io non le chiamerei divagazioni, ma già che siamo in argomento... Oh, no, 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 niente da te. Vado a fare una passeggiata. E Patrissietta viene con me. N'è cosa? Sì, via. Il sole non è ancora tramontato dietro casa. Sì, via. Ti riuscire a fare una passeggiata. Ti riuscire a fare una passeggiata. Sì, via. A lei? No. Sono nervosissimo, vado di sopra a rilassarmi, guarda. Non è possibile. No, 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 no. Pardon? Lorsignori mangiano la minestra? Sì, lorsignori mangiano la minestra. Ma era solo per sapere quanti piatti mettere, eh? Ma da quando in qua mia zia mangia la minestra? Da quando ci sono io. E quello che è buffa e che le piace anche. Questa è bella. Non l'ha mai mangiata. Oh, sì, sì. Mezzogiorno e cena. E va bene, signorina. Allora mangeremo tutti minestra. E dopo cosa c'è di buono? Dopo la minestra? Sì, signora. C'è un altro bel piatto di minestra. Io, ma dopo due piatti di minestra, ma che cosa vuoi mangiare ancora? Oh, ma signorina. Ma guarda che se volevi un pranzo di nozze me lo dovevi dire prima, eh? Oh, ma quella non ha proprio niente da cuota, eh? No, ma piuttosto della puttana. Sara! Hai fatto presto. Ho sentito la macchina. Nulla di nuovo in mia assenza, tesoro? No, no, no. È molto contenta di poter stare altri due giorni con Patrizia. Sai, vorrebbe vederla sposata. Eh, la conosco. Vedere sposata la gente è una delle sue fisse. Ti posso assicurare che ne ha già più di uno sulla coscienza. Allora, l'hai visto, Dalberti? Eh, l'ho visto, guarda. È nauseata dei nostri ruminetti. Vuole ritirarsi, vuole ritirare la sua parte, ma la banca si rifiuta di versargli la quota. Ebbene, venderemo qualcosa. Oh, Elena, pronti? Cosa, per esempio? La casa su dei blecchi, per esempio. Nella casa su dei blecchi è tutto ipotecato, compreso il giardiniere. Oh, famiglia! Eh, quell'uomo non sa ancora di non essere più alle mie dipendenze. I blecchi ipotecati? Ma da quanto? Eh, tre, forse quattro anni. E perché non me l'hai mai detto? Emma, a che cosa sarebbe servita allora, Elena? Ti avrebbe soltanto urtato, capisci? Perché invece adesso mi fa un piacere. No, ma pensa quanto tempo hai vissuto serena. Pensi, pensi che sia molto grato. Oh, beh sì. Questa volta, guarda, era disfatta il fallimento della famiglia parente. Ma senti, Paolo, bisogna assolutamente che tu parli a tua zia. Forse con un prestito. È impossibile, impossibile. Dovrebbe vendere quelle maledette vigne, capisci? È andata male, vero? Non te la prendere anche tu per queste cose, va? E dimmi un po', Patrizia, allora la zia vorrebbe vederti sposata? Ma sembra. È convinta che sarebbe un bel lavoro. Ma, ma tu, cosa ne pensi tu? Perché no? Se lo trovassi, come dico io, non troppo alto, non troppo magro, non troppo vecchio e non troppo povero. Ma, ma stai così male con noi, ma davvero te ne vuoi andare? Non ho mai detto questo. Però, vedi, in casa nostra ci sono sempre problemi di soldi. Questo non fa certo stare sereni. E io ho una gran voglia di stare un po' in pace. In pace? Ci saremo presto in pace. Intendo naturalmente la pace che segue le grandi catastrofe. Comunque, senti, nell'attesa che si compia la beata speranza, almeno tra le metri un po' di caffè. Caffè? Ma, ma non preferiresti dormire un po' invece? Ah, dormire, morire, sognare, forse! Caffè? Caffè?